Prima classificata, Greta Rago! Greta Rago, 17 anni di Terranova da Sibari, è la madrina della 61esima edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folclore, in programma nella città del Pollino fino a martedì 5 marzo. Sono soprattutto emozionata, mi viene quasi da piangere, non credevo che potesse essere reale. Nulla, spero di ricoprire al meglio questa carica e di divertirmi soprattutto, essere me stessa. La diciassettenne, studentessa della quarta B del liceo scientifico Mattei della città del Pollino, è stata eletta ieri sera durante la serata dell'atteso concorso presentato da Carlo Catucci, Marco Grazzaddio, con la partecipazione di Natascia Fato, Miss Mamma Italiana 2018 e l'uscente madrina Giada Sartori. Ad incoronare la neomadrina del Carnevale, il presidente della Proloque Eugenio Iannelli e il direttore artistico Gerardo Bonifati. Siamo contenti, felicissimi perché è bella, è simpaticissima, è molto preparata, sappiamo che va bene anche a scuola, quindi siamo felici di tutto questo. Rappresenterà bene, al meglio il nostro Carnevale che è giunto alla 61esima edizione e pertanto lei ci accompagnerà fino al prossimo anno che è quando andremo a preparare la 62esima edizione. Alla bella Greta Rago andrà anche una borsa di studio di 500 euro e da oggi parteciperà a tutti gli eventi della manifestazione carnascialesca. Dieci le aspiranti madrine che hanno preso parte all'evento provenienti non solo da Castrovillari ma anche dai paesi dimitrofi. Sul palco non soltanto bellezza ma spigliatezza e padronanza delle materie studiate all'interno del proprio istituto ma anche di attualità. Non sono mancati momenti dedicati alla danza con le esibizioni degli allievi delle scuole di ballo Saradanza, Cubadanza, Dream Dance e Fly Dance Academy. Ora il primo impegno della neo eletta madrina Greta Rago sarà quello di aprire il corteo di Re Carnevale in programma giovedì 28 febbraio alle 18.30 nella centralissima piazza Municipio Allorquando si darà inizio ufficialmente ai festeggiamenti e si aprirà la porta alla gioia e al mascheramento che durerà fino a martedì 5 marzo. E quindi buon Carnevale a tutti, vi aspetto!